Un festival dei giovani per i giovani è questo Action Live, l'evento che ha portato per otto giorni sul palco a Milano i laboratori di arti interpretative del progetto live di Fondazione Cariplo. Impreditorialità giovanile, cittadinanza attiva, innovazione culturale, i temi del festival, a partecipare 112 scuole della Lombardia e oltre 5.000 persone tra docenti, operatori e studenti. Ogni anno si fa questo festival dove vengono selezionate un certo numero di scuole che sono nel progetto live e che vengono a fare delle rappresentazioni in modo da dimostrare da un punto di vista educativo l'importanza di questa attività. C'è un problema educativo, anche attraverso la musica e il teatro noi educhiamo i nostri giovani. Sul palco si sono viste performance di teatro, musica e teatro musicale che formano l'edito dei percorsi formativi utilizzando una grande varietà di linguaggi e proponendo originali soluzioni artistiche e tecniche. Dal 2014 molte scuole della rete live hanno accettato la sfida di realizzare del project work portando avanti anche un'attività progettuale ideata e gestita in autonomia dagli studenti a servizio del proprio territorio in chiave di cittadinanza attiva. Cammin facendo il progetto live si è arricchito di ulteriori contenuti e cioè non solo attraverso queste due arti educare come dire al bello, al sensibile, rispettare naturalmente determinate regole, ma anche si è stimolato i nostri, questi giovani che stavano in questo progetto per a loro volta creare delle iniziative che avessero un significato come dire importante. Quindi al festival si presenteranno anche questi progetti.